Sono pochi, anzi pochissimi, i romanzi che riescono nell'impresa di restituire in parole il carattere, diciamo, ineffabile della vita, attraversandola in tutte le sue varie fasi, che corrispondono ad altre tante stagioni, contrassegnate da trapassi di vario genere, insomma, delle tipologie più varie, quindi prese di coscienza, scoperta, scoperte di lati di noi stessi che non credevamo possibili, mutamenti interiori ed esteriori, ad esempio il nostro corpo che cambia, solo per rendere conto del più banale, c'è quello più recusabile, riti di passaggio, insomma, il matrimonio, la morte di un genitore o cose del genere, per rendere le inevitabili morti delle persone intorno a noi, vicine o meno che siano, su su fino a quell'evento che una volta tanto e in modo definitivo ci vede non più in qualità di spettatori ma di protagonisti, cioè la nostra morte, non più quella degli altri, che pone una sorta di sigillo alla nostra vita e quindi fissa per sempre quello che siamo stati, se non altro ne ricordo degli altri, almeno per un po', dopodiché poi non è dato sapere che cosa accade. Ecco, uno dei pochi, pochissimi romanzi che riesce in quest'impresa è Stoner di John Williams, eccolo qui, editore Mondadori, la traduzione è di Stefano Tumolini, Stoner che è un libro davvero strano, l'altra volta ho parlato di Dispaci, dice di Michael Herr che non c'entra nulla, è un capolavoro anche quello, come questo, ma insomma è tutt'altro genere, e parlavo della mia difficoltà di esprimermi nel rapporto a quel libro, nel rapporto a Dispaci. Ecco, qui emerge una difficoltà che è analoga, ma che non si traduce nell'impossibilità di dire qualcosa, ma quasi in una sorta di sacro timore o di scrupolo nel parlarne, perché con questo libro John Williams veramente riesce, nell'arco di poche pagine, non sono neanche 300, a compendiare in modo incredibilmente esaustivo, completo, sfaccettato, tutto ciò che confluisce dentro una vita, in qualche misura, e lo fa a partire da un personaggio che nelle premesse sembrerebbe non avere quasi nulla in comune con noi, insomma con i più, nel senso che si tratta di un docente universitario, di un figlio di contadini che appunto finisce per fare il professore tutta la vita, e quindi ha una vita, sì da un lato se vogliamo piatta, normale, ma dall'altro abbastanza diversa dai più, i professori universitari sono un'esigua percentuale degli abitanti di questo pianeta, e quindi uno spirito scettico, diffidente, se non addirittura polemico, potrebbe uscirse obiettando, ma perché dovrei, cioè che me ne frega a me, insomma, di sorbirmi, di sciropparmi la vita e la storia di uno che per decenni insegna all'università. I motivi per cui un lettore, un potenziale lettore appassionato, dovrebbe sentirsi interpellato da un libro come Stoner, sono due come minimo, il primo è proprio legato al personaggio principale, abbiamo detto che è docente universitario, universitario, uno che viene da una classe sociale, che non è quella in cui poi si autotraghetta, diciamo così, ma c'è un elemento immediatamente, proprio nella prima pagina, che ce lo rende simile a noi, cioè il fatto che Stoner lo capiamo piano piano, mentre mano a mano che leggiamo il libro, è vero che è un uomo particolarmente buono, è un uomo dotato di una sensibilità fuori dal comune, però allo stesso tempo non è un individuo eccezionale, una delle prime cose che ci viene detta, proprio nella prima pagina, dopo la sua morte, insomma è osservata la sua vita nel momento in cui è già terminata, Stoner nasce nel 1891 e muore nel 1956, laddove John Williams, l'autore, nasce nel 1922, quindi è un po' retrodatato, probabilmente per evitare lo spauracchio dell'autobiografismo, è un po' retrodatato, una delle esperienze, e qui dicevamo appunto si colloca a cavallo la fine dell'Ottocento e fino appena oltre la metà del Novecento, dopo vediamo come questo aspetto qua ha un rilievo cruciale, soprattutto per quanto riguarda le relazioni di Stoner, e ci viene raccontata la sua vita dopo che sappiamo che Minerva Informatica è già morto e ci viene detto che non lasciò nella maggior parte dei suoi studenti un particolare ricordo, quindi non è un uomo, non è un genio, non è un uomo eccezionale, questo ce lo rende vicino a noi tutto sommato, ce lo rende una persona pur molto individuata, ma tutto sommato abbastanza comune, questo è il primo elemento. Il secondo elemento riguarda proprio il linguaggio, perché Stoner di John Williams è un libro che è scritto veramente in uno stile accessibile, è un libro che chiunque può leggere può comprendere senza il minimo problema, dopo ovviamente ognuno lo legge e ne fruisce a seconda delle sue nozioni, competenze, dei suoi livelli di cognizione, però diciamo è un libro che non pone nessun tipo di problema per quanto riguarda il confronto con lo stile, con il modo in cui è scritto proprio banalmente. Si sarebbe tentati, almeno a me verrebbe la tentazione, di fronte a un libro del genere, pur appunto, l'ho detto, non particolarmente lungo, non siamo neanche a 300 pagine, di non tralasciare nulla, perché sono talmente tanti gli ambiti che John Williams tocca in questo che è uno dei maggiori capolavori del secondo novecento narrativo, sono talmente tanti gli ambiti che tocca e viene da dire quasi tutti essenziali che a maggior ragione nel caso in cui si abbiano alcune esperienze in comune con l'autore, con il protagonista del libro, per esempio l'esperienza universitaria. C'è un ritratto che John Williams fa del mondo accademico come di un manicomio, cioè di un luogo di disadattati, di gente che fuori dall'università verrebbe spazzata via, letteralmente falciata, come dei fili d'erba che è molto spietato, ma è inecepibile. Chiunque sia passato attraverso l'università abbia visto che genere di personaggi a volte accedono all'insegnamento sicuramente ci si ritroverà. Oppure anche tutta la riflessione che Williams fa rispetto all'elemento che accennavo prima, cioè alla fuoriuscita di un individuo, cioè che cosa significa per un uomo voltare le spalle alla propria classe sociale d'origine per accedere a un'altra, quindi abbandonare il proprio mondo per entrare in un'altra. È un trauma in un certo senso, anche questo comunque è un trapasso che comporta dolore. Quindi dicevo, la tentazione mia perlomeno è di fronte a un libro del genere così bello, così intenso, così profondo, così esaustivo e completo di non tralasciare nulla. Però ovviamente non è possibile, perché poi insomma non basterebbe un corso probabilmente per sviscerare Stoner anche solo per come è scritto, per come funziona. Quindi la mia scelta, insomma chiamiamola così, è quella di focalizzarmi dapprima sull'interpretazione del tema di fondo del libro per come da forma alla concezione del mondo e delle cose di John Williams e poi di concentrarmi su due aspetti in un modo che è sicuramente arbitrario, ma spero non del tutto infondato, che ho scelto questi due aspetti, solo e semplicemente per il fatto che ogni volta che rileggo Stoner mi commuovono e mi interpellano più degli altri, o più di altri. Ora, il motivo principale del libro è, almeno per come lo leggo io, la caducità della vita. E questo non solo perché Stoner è costellato di espressioni che rendono conto del passaggio del tempo, quindi l'effetto che il tempo ha su tutto ciò che è vivente, su tutto ciò che è consapevolmente vivente, quindi sulla vita umana, non sui vegetali o altre cose. E quindi sui segni che lascia, ci sono pagine e pagine in cui ci viene detto che un certo personaggio si guarda, cioè pagine e pagine, ci sono più passi in cui ci viene dato conto per esempio dello sguardo di un personaggio che si guarda allo specchio e nota le rughe, nota i capelli che si ingrigiscono, oppure si vede sciuppato nel viro, si vede più curvo, eccetera, eccetera. Quindi certo c'è anche questo, quindi il tema, la caducità della vita come passaggio del tempo che tutto consuma e induce a deperire nel decadimento del corpo, l'annichilimento delle facoltà cognitive, tutte queste cose qua, naturalmente c'è anche questo, ma mi viene da dire non tanto, non solo, proprio c'è la questione della caducità, della fugacità della vita è strutturale nella misura in cui è la sorgente della concezione del mondo di John Williams e anche, per inciso, di Stoner. C'è uno degli episodi nella prima parte del libro, verso l'inizio, insomma, quando noi troviamo uno Stoner ancora studente all'università e lui si è scritto ad Agraria, perché appunto, abbiamo detto prima, figlio di contadini, l'idea dei suoi genitori di farli studiare Agraria e poi, una volta che si è laureato, tornare nella fattoria a dare una mano a loro, quindi proseguire sulle loro orme, diventare contadino a suo volto. C'è un episodio centrale che decide la vita di Stoner in cui lo vediamo a lezione e quello che diventerà il suo mentor e gli dirà guarda, tu devi fare il docente perché dentro di te c'è la passione, nient'altro che la passione, quindi la tua vocazione è l'insegnamento. A un certo punto gli sottopone un testo e gli chiede di commentarlo e questo testo è uno dei sonetti più belli della produzione di Shakespeareana, è il sonetto 73 in cui noi abbiamo questo scambio in cui c'è l'amato che dice in buona sostanza la faccio breve purtroppo sminuisco un po' Shakespeare spero mi perdonerà dovunque lui sia ma insomma l'idea è che uno dei due dice all'altro in me tu vedi l'inverno delle cose, in me tu vedi il crepuscolo del giorno, in me tu vedi lo svigorire della giovinezza che si consuma dopo che si è nutrita di se stessa e poi conclude questo in me tu vedi e proprio in nome di questo per questa ragione qui cioè proprio perché tu vedi che io per te rappresento l'inverno della vita diciamo le cose che piano piano si avviano al loro tramonto il tuo amore per me si accresce mettendoti nello dico con parole mie prosastiche insomma non poetiche come me lo ricordo a memoria quindi questo in me tu vedi e il tuo amore si accresce facendoti amare di più ciò che dovrai lasciare a breve quindi l'idea da subito in questo libro è quella della proporzionalità per così dire in verso ovviamente è un sonetto pervaso da sì da un'ambiguità perché non è non c'è direi che non c'è non è tanto la disperazione è proprio una sorta di dolorosa insieme dolce malinconia per le cose umane che passano quindi per il fatto che tutto ciò che è umano e tutto ciò che è viene da dire insomma in vecchio amore e quindi appunto dicevo l'idea ed è l'unico testo peraltro di un autore di un classico che viene citato per esteso nel corso del romanzo e quindi l'idea di una proporzionalità inversa tra l'intensità di un sentimento del sentimento garantono magia con la S maiuscola e la e la sua estensione cioè la sua ricaduta e quindi l'investimento il concreto esercizio il concreto esercizio del desiderio e questa idea dell'amore del sentimento d'amore del desiderio anche sessuale se vogliamo il desiderio in generale come ciò che è tanto più grande tanto più tanto più intenso è una cosa che possiamo che chiunque di noi può riferire alla sua vita ma quando tu ami qualcosa o qualcuno e sai che ti verrà tolto a breve beh lo ami di più proprio perché hai il presentimento del vuoto che questa persona lascerà nella tua vita una volta che non ci sarà più e quindi tutto il dolore e la nostalgia che ne seguirà ecco questa idea dell'amore che si accresce proprio in virtù dell'imminenza dell'incombenza della perdita pervade da cima a fondo Stoner e per esempio cioè non necessariamente nel senso dell'amore pazzo nei confronti di qualcuno ma anche solo di un legame generico purché ovviamente sia intenso ad esempio il rapporto che lui ha che è di necessità complicato con i propri genitori con le sue origini anche con loro come persone però si inserisce in quanto vado dicendo nel senso che quando Stoner dopo aver capito che ama sinceramente la letteratura e questa è la svolta della sua vita cioè ha comunicato ai genitori che abbandonerà Agraria e si scriverà a letteratura insomma per fare per studiare per fare ricerca poi l'insegnante e così via e quindi lo comunica ai genitori e il narratore ci dice che Stoner sente che non ha più niente da dire a loro dopo che ha comunicato questa sua decisione che piano piano si stanno allontanando da lui che li sente come strani e poi fa questo inciso qui dice e proprio in virtù di questa perdita si accrebbe il suo amore ne uscì accresciuto questo è il succo e questo viene fuori anche nel corso della sua di quella che è la sua relazione che vedremo più avanti cioè a luogo più avanti insomma nella seconda parte del libro con con Katherine che è l'amore della sua vita insomma l'unico vero amore di Stoner nel senso che alla fine per tutta una serie di ragioni abbiamo detto siamo nella prima parte del novecento e lui è sposato dopo vediamo un attimo e quindi Katherine è ufficialmente la sua amante insomma e lui si trova a doverla lasciare e c'è questa questo 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 passaggio questo passo in cui ci viene detto che loro trascorrono un'ultima notte insieme fanno l'amore e John Williams cioè il narratore ci dice fecero l'amore con una nuova intensa passione dovuta alla consapevolezza della perdita quindi di nuovo questa questione qua cioè tu sai che una cosa una persona ce l'hai ancora per poco per le mani quindi la ami di più la ami smisuratamente cerchi proprio in modo spasmodico di dire e dare tutto quello che hai da dire e da dare questo per quanto riguarda diciamo il tema generale e un altro aspetto come dire da segnarsi è perlomeno che ha coinvolto me è quello che riguarda il rapporto di Stoner con la figlia prima accennavo al matrimonio di Stoner la vita di questo personaggio è segnata perlomeno nella vita pratica esteriore da un matrimonio fondamentalmente infelice infelice fin dall'inizio nel senso che Stoner si lega a una specie di 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 isterica repressa e frigida che è questa edit di cui lui si innamora ancora giovane o crede di innamorarsi per poi realizzare dopo appena un mese che sono sposati che il suo matrimonio è un fallimento e l'istanza narrativa insomma Williams il narratore ci dice scrive che appunto dopo appena un mese imparò il silenzio capisce che insomma si è sporata la donna sbagliata e mette da parte l'amore però appunto mette da parte l'amore non lo annichilisce nel momento in cui nasce sua figlia Grace lo riversa su di lei cioè offre a Grace quello che non può dimostrare a sua moglie Edith e quindi c'è tutto questo svolgimento di un rapporto in cui noi vediamo questo personaggio ed è tanto più importante perché sembra una cosa oziosa se no messa giù così quanto più ci rivela una parte essenziale della personalità di Stoner cioè il modo in cui lui si prende cura della figlia al punto dà ci dice il narratore da farle quasi più da madre che da padre quindi quando è piccolina la vede piano piano crescere fisicamente vede i primi segni dell'intelligenza che va formandosi eccetera eccetera su su fino quando poi da adulta ovviamente con una madre come Edith anche Grace poverina non può che uscirne male e qui c'è uno dei grandi delle grandi pennellate di questo libro è un grande libro di personaggi non solo di personaggio questo qui Stoner in cui Williams si dice che Grace era una di quelle rare adorabili creature la cui natura era talmente delicata che richiedeva una cura e un sostegno costante quindi le cose poi si metteranno male per Grace però insomma resta il fatto restano queste bellissime descrizioni del rapporto tra loro due è un rapporto molto molto delicato in cui lui le si fa prossimo anche pur all'interno delle difficoltà di questo matrimonio di questa freddezza che lei come figlia patisce moltissimo quasi subito praticamente ha un'infanzia felice perché il papà è sempre lì con lei la madre non c'è però quando poi Edith decide di rivendicare insomma di fare la guerra al marito mettendo di mezzo la figlia come talvolta capita tra coniugi cominciano i problemi però come dire Stoner riesce sempre a mantenere un rapporto di cura rispetto alla figlia rispetto a Grace e questa è una delle cose fra le cose più belle ecco fra le cose più belle di questo libro e che ci restituisce appunto dicevo un tratto di fondo del personaggio di Stoner cioè la sua capacità di essere tenero la tenerezza di Stoner come uomo oltre che come uomo e come padre ma il piatto forte del libro almeno a mio avviso è ovviamente la storia d'amore con Katherine perché qui da questo punto di vista Stoner Stoner romanzo intendo stavolta non personaggio è appunto ci mette in mano è un po' questa storia questa relazione è un po' il testamento ecco quantomeno sul piano dell'amore rispetto a quanto Williams ha da dirci ha da dirci e ha da consegnarci dicevamo Stoner si spuola con questa donna una donna sbagliata quindi matrimonio infelice se la dovrà cuccare per il resto della sua vita anche se poi verso la fine della vita in realtà poco prima di morire lui e Edith si perdoneranno in qualche modo per il dolore che sono arrecati però resta il fatto di questa lunga tossica relazione dopo i 40 anni intorno ai 42 43 anni piomba nella vita di Stoner questa questa Katherine appunto che è una lettrice in visita presso l'università in cui lui insegna che si intruppa come uditrice in uno dei suoi corsi e qui ci viene detto che cioè come dire piomba arriva nella vita di Stoner nel momento in cui lui piano piano sta cominciando a rendersi conto che invecchia e in generale non si aspetta più granché dal futuro e dalla sua vita e qui è veramente cioè è molto bello il modo in cui lui insomma non entro nei dettagli perché insomma non è il caso ma in cui lui cioè in cui Williams ci descrive una storia d'amore insomma dai primi passi fino alla sua chiusura e riuscendo ad aggirare quello che insomma è il cliché in cui probabilmente qualsiasi altro scrittore almeno in parte sarebbe incappato cioè del tipo uomo di mezza età si prende la scottata per la squinzia più giovane e così via ecco Williams riesce ad aggirare questa cosa fa sin dall'inizio restituendoci le peculiarità dei caratteri di questi due personaggi che sono fondamentalmente due timidi lei timorosissima lui proprio un imbranato e tra l'altro questo almeno ci lascia intendere anche qualcosa credo sulla personalità dell'autore stesso perché quando uno descrive la timidezza in modo così di prima mano insomma è difficile non è una cosa che puoi imparare o inventare insomma tutto lascia credere che ci sia molto di Williams come persona da questo punto di vista dentro Stoner perlomeno questa è l'impressione che ha fatto a me quindi appunto il modo in cui è molto è davvero notevole ed è una delle cose che rende questo libro un capolavoro cioè la modalità fra le altre cose con cui con cui Williams riesce a a descrivere lo scioglimento progressivo e continuo della goffaggine è reciproco della goffaggine di di Stoner e di e di Catherine e e oltre a questo questo diciamo è sul piano un po' più generale su un altro piano e qui mi ricollevo quello che quello che dicevo prima cioè il motivo dominante della caducità della vita nel senso che poi il grande tema dell'amore come quello della morte le due cose sono da sempre sono legate sarà sempre così nei secoli dei secoli serve questa relazione sentimentale a a Williams anche per cioè come se fosse una sorta di di parte cospicua ma pur sempre minore insomma riconducibile a una questione ben più ampia che non è solo quella diciamo da un lato della caducità della vita va da sé no per l'intensità dell'amore che cambia sulla base del tempo che hai a disposizione da trascorrere con l'oggetto soggetto del tuo amore ma dall'altra parte e questo è un ulteriore elemento di grandezza di questo di questo romanzo cioè la relazione d'amore come parte di una questione più ampia che investe una riflessione sul linguaggio sulla natura del linguaggio cioè in questo libro Williams riflette in modi magari una mancanza mia ma in modi che a me non fanno venire in mente nessun titolo neanche lontanamente paragonabile in termini di chiarezza e di semplicità e di lucidità di pensiero in merito alle prerogative alle potenzialità uso questo termine nel senso neutro della letteratura e qui faccio un passo indietro nel capitolo 6 che può sembrare fuori luogo ma insomma in realtà è una premessa necessaria a quello che poi sto per dire nel capitolo 6 ci viene descritto quello che è l'antagonista di Stoner che è Oli Lomax che è il suo grande nemico di fatto quello che gli creerà un sacco di problemi in facoltà gli metterà i bastoni tra le ruote eccetera eccetera e viene sviluppato un parallelismo tra i due cioè ci viene detto a chiare lettere che in realtà nonostante le differenze i due sono uguali almeno in un aspetto cioè nel fatto che Lomax come del resto Stoner a un certo punto si sono convertiti alla letteratura che cosa significa in concreto questa conversione è l'espressione che usa Williams è questa l'epifania cioè la manifestazione del fatto che le parole possono far conoscere delle cose che rimangono sconosciute ai più e allo stesso tempo però questa modalità di conoscenza questa conoscenza profonda a cui le parole possono far accedere non è qualcosa che io posso esprimere a parole ovviamente è paradossale ma ma vero ecco perché la perché la storia d'amore e la descrizione della redazione sentimentale tra Stoner e Catherine va cioè è riconducibile a questa più generale riflessione sulla letteratura perché ne svela in qualche modo i limiti cioè Stoner è un elogio della potenza della letteratura cioè quello che la letteratura può fare ma anche quello che la letteratura non può fare cioè Williams ci mostra in modo poetico anche se è un romanzo quindi si parla di prosa che c'è una una soglia oltre la quale comincia una una dimensione una zona dell'umano che che è presieduta in realtà dal silenzio cioè che non può essere detta in cui il silenzio agisce come una sorta di custode che è l'unico è l'unico deputato a vegliare sui segreti del cuore che come tale non è che non possono essere esplicitati ma proprio non possono proprio essere detti non possono non possono essere tradotti ecco perché in questo caso di vera e propria traduzione si parla invece di qualcosa di approssimativo di trasposto in un altro piano che però sarebbe sì in questo caso sì un vero e proprio un vero e proprio un vero e proprio tradimento e questo quindi appunto le potenze e i limiti della letteratura e più in generale delle parole delle parole scritte delle parole pronunciate del linguaggio verbale in generale e questo lo vediamo a riferimento a una scena ben determinata che è quella della Dio che segue appunto la notte di cui dicevamo prima l'ultima notte tra Stoner e Katherine in cui i due innamorati fanno l'amore per l'ultima volta poi Stoner a un certo punto cioè nel ben mezzo della notte si alza e se ne va Katherine si sveglia dopo qualche ora non va in cerca di lui non va a dirgli guarda io sto andando via insomma niente di tutto questo e qui siamo alla fine del del tredicesimo capitolo quindi ne seguiranno un altro po' poi ci sarà anche un'altra faccio un'ultima parentesi perché questa è molto bella che è il secondo fattore del di potenza credo di questa relazione molto particolare molto insomma il suo lato un po' romantico ecco la sua concessione forse anche un certo romanticismo che in questo caso si strizza l'occhio se vogliamo no? ha un certo tipo di romanzi molto meno nobili anche se vogliamo di questo però lo fa come sempre in modo talmente convincente che non non si trova davvero nulla da dire come non si può trovare nulla da dire su questo romanzo sia sul piano stilistico che su altri piani praticamente dopo una ventina d'anni che lui non rivedrà più Stoner non rivedrà più Katherine quando ha circa 60 anni viene a sapere tramite una circolare interna all'università che è uscito un libro che afferenta al suo campo di studi letterari scopre insomma vede che l'ha scritto Katherine e se lo procura apre il libro in questione e vede la dedica con le sue iniziali non solo le sue iniziali vw.s.williams.toner nient'altro a proposito dei limiti del linguaggio cioè di dove il linguaggio è bene che si arresti le iniziali nient'altro perché con tutta evidenza non c'è nient'altro da dire e qui Williams si sbottona un pochino di più cioè ci dice una volta tanto indugia ecco sempre molto conciso nelle sue formulazioni conciso ed essenziale qui invece si si dilunga un attimino e ci dice che appunto per essere il più chiaro e inequivocabile possibile cioè ci dice che Stoner è arrivato a limitare a quasi 60 anni convinto di essersi lasciato alle spalle questo amore in realtà non è stato così e non sarebbe mai stato così e questo elemento colpisce colpisce davvero perché appunto sono passati più di 20 anni e questa considerazione incastonata all'interno di un libro in cui davvero diciamo la caducità della vita c'è il sentimento annesso dell'oblio delle cose dell'oblio che inghiotte prima o poi tutte le cose davvero facendole precipitare nel nulla ecco è talmente preponderante che colpisce no? che quasi richiama certe certe espressioni addirittura bibliche forse no? forte come la morte e l'amore cioè colpisce perché veramente è un libro segnato profondamente dall'idea che niente resista al tempo all'azione del tempo ma dicevamo torniamo alla se no poi non finisco più torniamo alla scena di cui di cui sopra siamo alla fine del tredicesimo capitolo quindi i due hanno passato un'ultima notte insieme e sanno che non si veranno più perché lei partirà e lui è andato via nel mezzo della notte lei si alza non va in cerca di lui siamo alla fine del tredicesimo capitolo e a proposito dei limiti e della soglia a cui la letteratura in generale la parola è bene che si arresti Williams scrive Stoner capì che aveva progettato aveva nel senso Katherine aveva progettato la sua partenza già da tempo e le fu grato per averlo tenuto all'oscuro e non avergli lasciato alcun biglietto da Dio per cercare di dirgli ciò che non poteva essere detto grazie a tutti